Strade infinite. Temperature assurde. Paesaggi mozzafiato. Anche le mosche che mi ricoprono la faccia. Sale in moto con Henry Cole alla scoperta dell'Australia. È il paese ideale per andare in moto, perché si ha la sensazione di vivere un'avventura. Questa strada è magnifica. Do persino da mangiare ai canguri. In prima visione assoluta, Bike Ronderau d'Australia. Sabato alle 19.10 su Fine Living, canale 49. Grazie.